Ciao i crottini, ciao i crottine! Sei lui da Pobbano? Ciao! Ciao, allora lui è rosso Quanto sei rosso, si vergogna, che carino! E niente, è Lorenzo ed è il mio migliore amico Presenta di mamma Sono Lorenzo Valente Abito a Roma, abito a... Va bene così E se non arrivano i stalker, non va bene E niente, questo sarà il videotag dei migliori amici Perché noi siamo migliori amici Quindi si fa E deve... Che cazzo vuoi? Bravissimo E niente, praticamente Lui deve rispondere a 20 domande Quindi sei pronto Prontissimo Vedo che sei molto pronto Allora, quando vi siete conosciuti? Allora, siamo conosciuti precisamente... Aspetta che si stava All'Ores Di Milano Di Milano? No, di Roma, di Milano Di Roma, sì Ok E tipo... 4-5 anni fa Era il 2009 2009 Vabbè sì, più o meno, stiamo là Io ho suggerito io, vabbè la stessa cosa 2-2 Qual è il vostro ricordo preferito insieme? Non ha ricordi preferiti insieme a me? Sono stronzo Beh, no Di tutto Allora Quando ci siamo conosciuti Più o meno all'Ores Sto sudando Allora Dove il ventilatore è là e stiamo sudando Ciao, ventilatore Allora, più o meno all'Ores Quando non ci sono tanta gente Poi ci siamo conosciuti meglio Soprattutto noi due Sì Che bella così Io direi tipo le gite che abbiamo fatto insieme Sì, più o meno A sutri A sutri Piscina, scivoli d'acqua Sì, è stato tutto molto bello 3-3 Descrivi l'altra in una parola Buono, te l'ho detto Descrivi l'altra in una parola Quindi te ti lo scrivi Allora, che chiami? In una parola più o meno Un attimo Beh Generosa Oh, sono generosa E lui, non lo so Tipo protettivo Perché quando sto con lui Mi sento perdata Vero? Modestamente Modestamente 4- Qual è il vostro lavoro ideale? Tu non lo sai Però è tipo inventa Allora Guardando di Modella, ovviamente No Mi smoro L'estetista L'estetista Ma è proprio sbagliato Random Tipo psicologa No Io ero la che ti trucca le persone Eh, ma io ero la psicologa Eh Il vostro lavoro ideale vuol dire Cioè, non è quello Vabbè, lui il calcio è la tua rizzo Ma Andando su questo Poi Qual è il vostro marchio make-up? Lui non si trucca Non credo Di più infatti No Non si trucca Non mi trucco Eh? Qual è qualcosa che ti infastidisce Riguardo all'altra persona? Eh, io sono perfetta Non ti infastidisce niente Sono perfetta Cosa mi infastidisce niente? Mmm Troppe cose No, davvero? No Dai, vici tutto Niente Niente Che cosa è bella Non lo so Boh No, niente Per adesso Per adesso niente Per adesso Per adesso niente E a lui tipo Quando mi fa ingelosire Con le persone Perché sa che è mio E quindi mi devi fare ingelosire Perché da quando Perché se no non sono contento Sono stronzo Ma a volte lo fa anche a posto È molto cattivo In questo senso Sì Sono una persona che ti ha Cattivo Se potessi andare Dovunque nel mondo Dove andresti? Io dove andrei Secondo te A Londra Bravo Ti ce ne vedo troppo a Londra Oddio bravissimo È troppo vero E lui non lo so Dove andresti te? Io Te lo do dire Certo No non mi sapevo Non mi sapevo Non lo so Mi sapevo al tempo Sì appunto Prima le donne Eh? Prima le donne Ah ok capito Un'altra cosa E tipo stronzate più grande Ce ne sono trotte Non lo so Tipo tutto il centro estivo Le facciamo Le nostre stronzate più grandi Dizzi tu Io Eh sì È una delle tante Però non mi piacciono i miei capelli Dele tante Dele tante Beh forse perché Quando gli ho fatto male Quei sbagliato il mio cagnolino Perché è una stronzata? Sì Perché non l'ho fatta apposta E quindi mi sono sentito Tipo troppo Troppo in colpa Perché l'abbiamo dovuta Sì ma insieme Insieme Io e te Io e te? Sì La nostra stronzata più grande No? Non abbiamo mai fatto stronzate Penso di no Da quanto i miei ricordi No Stronzate no Tipo scherzi Quasi del genere Quelli no Mai Meglio non parlarne Chi perde più tempo a prepararsi Beh direi io perché sono femmina Quindi diregli sì Però da quello che ho saputo Anche te lo scherzi Beh perché per una storia Ci mette tanto pure lui No sì Certo alcune volte si sono sincera È un po' una femmina Stagione preferita No femmina No Stagione preferita Però mi sto dobbando Della delle camera è tipo spostato Troppo Maggi Aspetta Non lo dire Così Così sti magari Dico Estate Estate Mi devo vedere Quale la mia La mia è l'estate No sì secondo me sì Perché c'è il centro estivo Sì poi Ma è l'altra stagione E' l'altra stagione Perché mi arrivano tanti regali Ma Chissà che cosa può essere Autunno Autunno Primavera Ma lo sai che è l'inverno Le hai dette tutte No era per dire escludendo Autunno e primavera Ah ecco certo Sì È l'estate È l'estate No insomma Perché l'estate non c'è il caso Non ci sono allenamenti Eh beh però te leni allora Se alla fine guarda Non è uguale Più o meno Ma che ne so io Sto zitta Sì Sì poi che c'è Canzone preferita La mia non la sai See you again di Wiz Khalifa Che la mia? No la mia Vabbè la dovevo dire io la tua See you again La tua aspetta È guerriero di Marco Mengoni Sì E poi gliel'ho detto anche ieri Quindi tipo Cade proprio a fagiolo Come essere migliore amico di una del famiglio Cioè non ti ne trovo a cazzo No Sì Ci può stare Cioè È bello È bello Mi sento una persona importante Ah anch'io sai Tacchi o scarpe basse? Lui tacchi tutta la vita Scusa ti sto cosando in ginocchio Ma al fondo sto comandando Perché tacchi? Perché sei un po' donna Un po' Mmm Poi bello Noi ci stuzzichiamo Lei scarpe basse Porta le Le giorni No ora porto i calzini Va bene Scarpi basse Pantalone con un vestito Vabbè lui è stito Ti voglio bene No pantalone mi pare E tu pantalone Vabbè sì Pantaloncini Sì ci può stare Animale preferito? Cane Tutta la vita Sì ma tutte e due Se la vostra casa stesse bruciando e la vostra famiglia fosse in salvo cosa salvereste e perché? Beh io salveresti No io cosa salveresti? Tu salveresti il tuo cane e tua mamma Già la famiglia è in salvo Ah e il telefono Ascolta proprio il telefono C'è tutto il giorno E i trucchi Sì può essere E tipo le cose di Harry Potter Ma tu non lo sai E poi c'è tipo lui il pallone Così 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 un po' Così Un ragazzo che non ha una vita Tipo anche videojoghi Robo dei joghi No beh videojoghi Ma non c'è stato più di fase Anche perché è estate Quindi se ci stavi era greve E vabbè poi Greve Più bello dire greve Giusto Poi commedia horror Commedia Io? E beh vorrei dire E lui pure Cioè ci cagliamo sotto tutte e due Sì certo Io ho detto Andiamo al cinema a vedere Badadook Ancora non mi ha risposto Sì non si caga Può darci Non so se ci impegni Io l'ho già vista Probabilmente sì Probabilmente impegni Ecco guarda casa Blackberry o iPhone? Non so cos'è Blackberry Quindi direi iPhone Vabbè vi lascio a te Io lo provo Tipo iPhone iPhone Fida di iPhone iPhone Film preferito Io non lo so Harry Potter O forse sì Harry Potter Vabbè no Vabbè io ho fatto Vabbè io ho fatto Vabbè io ho fatto Vabbè io ho fatto Tipo quello Couplewalker Come si chiama? Fast and Furious Sì quello vero Bravissima Lo so che sono bravissima Poi Cosa avete mangiato di strano? Ma chi è stato No Che c'entra con la licenza Cosa avete mangiato di strano? Io E tu io Io Allora Una volta ho fatto una challenge con un mio amico Mi ha una bella e rischia il gusto io Ma che no Vabbè No ho mangiato un bicchiere C'è la nostra ombra Ma che carina Ciao Ciao Ho mangiato un bicchiere Di aranciata Ma quanto sono bella oggi Io veramente mi sto stupendo Mi sei Aranciata Ketchup Limone E maionese Che schifo Ma che era Schifo Schifo Avete qualcosa di uguale? E tu che hai mangiato un pesce? Che è strano Niente Io mangio quasi normali Tipo le caramelle di scale boost È l'unica cosa Normale Normalissima Ma vabbè Capito Cipo per cani Ecco ma C'è buonissima No no Cipo per cani mi piaceva Te lo vado Cipo per cani Torna qui Che poi mi manchi Avete qualcosa di uguale? No Cosa abbiamo di uguale? Niente Il cappello dell'Ores La maglietta No 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 Io ce l'ho già La cucina è rossa Vabbè ma è uguale alla fine Vabbè sì È uguale Poi Qual è Vabbè Tipo qual è la cosa Il prezzo più grande Della tua amica? Il mio Il prezzo? Il prezzo La cosa mia più bella Del mio carattere Nel sancio Generosa Nei tuoi confronti Sono generosa Sono anche un passo in pari Una grande amica Sono una grande amica Sì Lo aiuto molto È tipo il tuo prezzo Ti aiuto molto Oh l'ho fatto mettere io Insieme alla sua ragazza Quindi Non è vero L'anno scorso L'anno scorso io Vabbè Poi si sa Lascia dire Questo Però l'anno scorso Non vi parla di mia posizione Eh? Eh? Sì Sì ha un cane Vabbè insomma Il mio Ah il tuo prezzo Non li hai È un po' complicato Non è vero Molti prezzi È tipo Uno dei tanti Come c'è il vivo Sto giocando Sto spettando te No È molto protettivo L'ho già detto prima Quindi quando sto con lui Mi sento sicuro Perché ci protegge tanto Troppo Ultimamente non te ne vedo un cazzo Che vuoi dire Niente Non è vero Non è vero Non è vero Mi vuole molto bene È vero È vero È vero È vero È vero Qual è il vostro programma preferito? Beh Dimats Ma io lo devo dire di te Tu di me Vabbè Il suo è Dimats Credo Rilasciano Andressa Il tuo è Ti amo Quello delle canzoni Eh Quello delle canzoni Mtv Sì Probabile Poi Ti vedo Ops È vero Aspetta che il tappeto Mi sta cucinando Non lo so Che ne so Aspetta Non abito con te Che vedi i canali Sto scomodendo Cosa Real time È fighissimo Che ne sono Ma perché sembro Più bassa di quello che sono Oh Sto si fa Ma da così Non sono bassa E poi boh C'è tipo Non ci sono più domande È finito il video Siamo carini e coccolosi Già finito Pensavo che era tipo Lungotto Minuti e mezzo Eh no 20 minuti Già abbiamo fatto Quanto abbiamo fatto? 12 minuti Ma Il tempo vola Quando ci si diverte E niente Mangiamo un grosso baso Saluta Perché Mi prende per cuo Bacio Bacissimi a tutti Ciao Ciao